Le ragioni sono proprio quelle che avete elencato, insomma. A noi ha colpito l'utilizzo del mezzo televisivo. Diciamoci la verità, se Tina Rispoli e Tony Colombo si fossero sposati senza finire in televisione, probabilmente noi non avremmo messo tutte queste risorse in campo. Noi abbiamo cercato di capire perché e come sono arrivati in televisione, quali sono i nodi che li hanno portati fino a lì. E poi ci siamo chiesti una domanda importante, una domanda tecnica. Noi siamo partiti dall'indirizzo in cui era residente in quel momento Tina Rispoli e dove c'era la sua casa di produzione, che poi non è registrata al fisco. E quell'indirizzo è un indirizzo vicino alla casa di Paolo Di Lauro, storico boss di Secondigliano, capo dei capi di Secondigliano, di cui suo marito era stato uno strego oppositore, quello che aveva fatto l'ascissione. Quindi perché le è tornata lì e perché vanno in televisione? Ecco, queste sono le due domande.